Buongiorno, bentrovati, iscrivetevi sul canale e attivate anche la campanella delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati alla pubblicazione di nuovi contenuti. Oggi facciamo un video interattivo, dovrete assolutamente supportarmi con i commenti, dicendomi la vostra e provando anche ad aprire voi qualche scenario, qualche ipotesi. Notizie pochine, ve lo dico già, diverse indiscrezioni, ma che rimbalzano ormai da diverse settimane e proviamo a capire quello che potrebbe essere lo scenario delle prossime panchine di Serie A. Io credo tantissimi allenatori potrebbero cambiare squadra e quindi potrebbe esserci davvero una Serie A completamente diversa il prossimo anno rispetto a quella che sta terminando con diverse proposte nuove sia a livello di gioco sia a livello di gestione. Inevitabilmente dobbiamo partire dalla Juventus, dove, vi racconto ormai da un po' di tempo, le sensazioni portano ad una separazione con Massimiliano Allegri al termine di questa stagione. Nonostante Allegri abbia ancora un anno di contratto, il suo contratto a scadenza al 2025, e, insomma, giuntoli almeno ufficialmente continui a dare il massimo supporto al tecnico, continui a dire che è ben soddisfatto del lavoro che sta svolgendo. Però i segnali portano verso una separazione con Allegri e, giuntoli, credo stia programmando il futuro prossimo con un'altra guida tecnica, che ha un nome e un cognome, ovvero Tiago Motta. Tiago Motta che sta facendo davvero benissimo col Bologna e mi risulta in questo momento sia totalmente concentrato sul percorso del Bologna e che non vorrà sapere di altro fino a quando non andrà a centrare l'obiettivo massimo con la sua squadra di oggi. Anche perché il Bologna davvero potrebbe festeggiare un ritorno in Europa storico, considerato che all'inizio di questa stagione, credo in pochi, la dessero in corsa per un obiettivo così ambizioso. Il lavoro di Tiago Motta e dei suoi collaboratori sta davvero pagando ed è un lavoro che ha le radici anche nella passata stagione. Però obiettivamente anche per le cessioni che ci sono state nel Bologna, l'estate scorsa, sembrava davvero questa squadra potesse avere dei problemi addirittura per la permanenza in Serie A. Tiago Motta è andato oltre, ha fatto performare la squadra davvero nel migliore dei modi e obiettivamente il Bologna sta meritando la posizione di classifica straordinaria che ha in questo momento. Però nell'ambito delle tracce che dovrebbero portare alla Juventus l'estate prossima, dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto. Cioè Tiago Motta vorrà parlare del suo futuro solo dopo aver centrato l'obiettivo stagionale col Bologna. Dal punto di vista della Juve invece non ci saranno movimenti fino al raggiungimento dell'obiettivo principale per la prossima stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe già arrivare in caso di vittoria con la Roma. Però insomma, considerato che la Juventus non vince dallo scorso 7 di aprile, è giusto anche approcciarsi con la massima cautela sui prossimi impegni. Io credo Allegri stia facendo di tutto insieme ai suoi collaboratori per tenere alta la tensione della squadra, così come credo i giocatori stiano mettendo il massimo impegno per ottenere il miglior risultato possibile. Però insomma, lo scontro diretto con la Roma sicuramente nasconde delle insidie. Fino a quando non sarà raggiunta la qualificazione alla prossima Champions League, io non credo ci saranno delle minime tracce sul confronto tra Allegri e la dirigenza. Così come credo, per quanto non andrà a spostare le valutazioni sul tecnico in chiave futura, io credo non ci saranno azioni di disturbo in avvicinamento alla finale di Coppa Italia, in programma il prossimo 15 maggio e che dà alla Juventus l'opportunità di rimettere le mani su un trofeo dopo due stagioni a mani vuote. Quindi credo sia davvero un appuntamento tanto importante. Se Tiago Motta ve lo indico come la più probabile allenatore della Juventus per la prossima stagione, qualche traccia vorrei analizzarla insieme a voi su Massimiliano Allegri. Perché si è detto tanto sul conto del tecnico Livornese negli ultimi mesi, un po' di tempo fa veniva associato alla Roma, poi obiettivamente l'arrivo di De Rossi è lo straordinario lavoro di De Rossi, ha consolidato la sua candidatura anche per il futuro. Così come non mi risulta, devo essere molto sincero, una traccia nitida sul futuro di Allegri per la prossima stagione su una panchina né italiana né straniera. Io credo l'allenatore abbia anche allontanato ogni tipo di discorso relativo al suo futuro perché avendo un contratto con la Juventus, obiettivamente credo abbia sperato fino all'ultimo di poter rimanere ancora sulla panchina bianconera, probabilmente anche fino alla data di scadenza del contratto, avendo così l'opportunità di guidare la squadra anche per il prossimo mondiale per club, che è una competizione alla quale la Juventus ha avuto accesso grazie ai risultati degli ultimi anni. Detto ciò, in questo momento il nome di Massimiliano Allegri potrebbe essere accostato a qualche squadra italiana. Ripeto, in questo momento non ho tracce nitide, però qualche indiscrezione c'è stata. Sul fronte Milan io credo in questo momento le candidature forti siano altre. Io credo la dirigenza del Milan voglia andare su un allenatore straniero, anche se la candidatura di Maurizio Sarri è da tenere sott'occhio perché potrebbe essere lui l'allenatore più impattante in questo momento sulla rosa-rosso-nera sia per le caratteristiche che ha già al suo interno sia per le poche esigenze di mercato con l'arrivo di Sarri dopo Stefano Pioli. Stefano Pioli che potrebbe essere una soluzione per il Bologna, proprio al posto di Tiago Motta, anche perché il Bologna, eventualmente in Champions League, avrebbe la necessità di affidarsi ad un allenatore esperto e credo Stefano Pioli possa essere davvero una soluzione più che credibile, anche perché Giovanni Sartori, il direttore sportivo del Bologna, con Pioli ci ha già lavorato e lo avrebbe anche voluto all'Atalanta quando poi andò su Gasperini. E quindi, ripeto, l'ipotesi di Pioli al Bologna è comunque da tenere in considerazione. Fermo restando che Pioli potrebbe essere un candidato forte per la panchina del Napoli. Qui i discorsi nelle ultime settimane sono andati in favore di Antonio Conte che dopo una stagione di inattività vuole sicuramente tornare in corsa ed è anche però una possibilità per tantissime altre panchine europee di club importanti. Io credo in questo momento De Laurenti si stia giocando d'attesa, stia facendo il suo gioco, provando a capire quale possa essere la soluzione migliore in un momento storico in cui il Napoli ha necessità di affidarsi ad un allenatore esperto, di un grande conoscitore di calcio e che in qualche modo possa anche rivitalizzare quello che è un contesto che è passato dall'euforia dell'anno scorso alla depressione di quest'anno. Tra l'altro col supporto di Giovanni Manna, che ormai non è più operativo alla Juventus accanto a Cristiano Giuntoli e Sarai, il prossimo direttore sportivo del Napoli. Napoli che in qualche modo è venuto fuori anche attorno al futuro di Massimiliano Allegri, un po' perché lo ha menzionato Giovanni Galeone, da sempre mentore di Massimiliano Allegri qualche giorno fa sulla Gazzetta dello Sport. Io su questa ipotesi, pur non avendo tracce, voglio fare una piccola ricostruzione. Ricorderete che la prima volta che Allegri rispose in maniera anche un po' infastidita sulla propria posizione alla Juventus risale appunto alla conferenza stampa di vigilia di Napoli-Juventus. Nella stessa mattinata parlò il suo procuratore in radio, Giovanni Branchini, dando quasi per scontato la conferma di Massimiliano Allegri, ma dando anche un piccolo segnale alla società dicendo che con questa dirigenza c'è da aspettarsi di tutto. Ma questa casualità, se vogliamo, probabilmente è stata davvero una casualità, vorrei sovrapporla alle parole che disse De Laurentiis alla vigilia dell'ultima partita che il Napoli ha giocato in Champions League. Eravamo in un momento in cui Maurizio Sarri aveva appena rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Lazio e lui disse non sono d'accordo con queste dimissioni perché un allenatore vincente deve rimanere a capo della sua squadra fino alla fine per rispetto della società e dei tifosi. Ecco, in queste parole qua in qualche modo ci vedi anche un messaggio criptato probabilmente anche per quello che è stato l'atteggiamento di Massimiliano Allegri in questi mesi sicuramente difficili sulla panchina della Juventus perché sono tante le voci che ormai si rincorrono da tempo sulla evidente ipotesi che si andrà verso la separazione al termine di questa stagione. Massimiliano Allegri però ufficialmente non si è ancora sentito dire nulla da parte della dirigenza della società e ripeto non succederà nulla fino a quando non si andranno a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali. Basta tutto questo, tutta questa ricostruzione per avere dei segnali su Allegri al Napoli? Obiettivamente non credo. Io credo il candidato forte per la panchina del Napoli resti Antonio Conte così come l'alternativa Stefano Pioli è da tenere fortemente in considerazione così come credo nelle speranze di De Laurentiis ci sia anche la possibilità di aggredire allenatori come Gasperini o addirittura Juric che possano in qualche modo dare continuità ad una certa proposta di gioco. Ci sono sicuramente degli altri allenatori che potrebbero muoversi l'estate prossima. Io credo con l'uscita di Vincenzo Italiano dalla panchina della Fiorentina il candidato numero uno per la panchina viola sia Aquilani che bene ha fatto negli ultimi anni a capo della primavera a Viola e quest'anno a capo del Pisa in Serie B così come mi risulta che il candidato forte per la prossima panchina del Sassuolo sia Bivarini che sta facendo un altro lavoro straordinario così come credo Dionisi possa rientrare nei vari ragionamenti che si faranno in Serie A soprattutto in quota Monza nel caso in cui Palladino lasciasse la squadra Lombarda insomma ci sono sicuramente tante tracce che devono ancora muoversi e che devono andare a completare un puzzle che a mio avviso il prossimo anno ci darà uno scenario completamente diverso rispetto a quello attuale e questo credo possa cambiare in meglio la nostra Serie A ditemi cosa ne pensate datemi voi qualche indirizzo, qualche traccia su chi vedreste meglio eventualmente in quale panchina insomma divertiamoci un po' quando avremo delle notizie sicuramente avremo la possibilità di ritrovarci qui per commentarle insieme iscrivetevi al canale e come sempre vi ricordo attivate la campanella delle notifiche grazie